Essere del Movimento 5 Stelle significa essere coerente, trasparente, libero ed onesto. Onestà, onestà e verità, al di là di scelte scomode e compromessi con il potere. Ed è proprio oggi come io sono qui, onestamente, per denunciare come Comunione e Liberazione la più potente delle lobby italiane abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paravento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. Non ho ancora finito, mi avete chiesto, sono qua per dire la verità. Lasciate parlare, ascoltiamo. La politica deve essere laica, perché deve fare il bene comune. Non esiste una politica cristiana, ma esiste un cristiano che fa politica. Il Movimento 5 Stelle si indigna che si possa strumentalizzare in questo modo tanta brava gente e credenti cattolici. Negli anni avete generato un potere politico capace di influenzare sanità, scuole private cattoliche, università, appalti, sempre dalla parte dei potenti, sempre dalla parte di chi comanda e sempre in nome di Dio. Ed è dal Vangelo di Luca che dice non potete servire Dio e il denaro.